Nuovo centro-destra, Barbara De Ghani, ormai ex presidente della provincia di Padova, sottosegretario. In un minuto, lei perché ci crede al governo Renzi e perché devono credereci gli italiani? Perché è riuscito in pochissimo tempo a rompere gli schemi, l'ha fatto nel suo partito e lo sta facendo anche con le istituzioni. Se guardiamo un provvedimento che secondo me è brutto che riguarda le province, è riuscito dove altri hanno fallito. Siccome io ho fatto attività logistica per le province, sia con il governo Monti che con il governo Letta, e non ci sono riusciti a portarlo a termine, questo è arrivato e ci è riuscito. Le politiche quando saranno? Nuovo centro-destra, alleato di Berlusconi o di Renzi? Non so se ci sarà Berlusconi, ma il nuovo centro-destra si chiederà per il centro-destra. Un punto è svolgere un'attività in questo momento di emergenza, perché siamo in una situazione di emergenza e quindi è un governo di unità nazionale. Un punto è quando c'è la normalità. Abbiamo idee diverse e ci presenteremo come nuovo centro-destra.